Una nuova Commissione Permanente nasce in Consiglio regionale. Nell'aula di Palazzo Lascaris è stata infatti votata all'unanimità la proposta di deliberazione che istituisce la Commissione Permanente in materia di legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi. Il nuovo organismo avrà il compito di monitorare e vigilare sul fenomeno della corruzione e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività pubblica e sul rispetto delle procedure di assegnazione degli appalti pubblici. Potrà anche elaborare interventi normativi e amministrativi per il contrasto di tali fenomeni, promuovere intese di protocollo con le prefetture e le forze dell'ordine e diffondere la cultura della legalità in collaborazione con le scuole. Indubbiamente una Commissione Permanente è un atto importante di indirizzo per il Consiglio e per la Giunta stesso. La legislazione è sicurezza per i cittadini perciò gli atti di indirizzo che farà il Consiglio, le leggi che faranno saranno prodomiche per la sicurezza di tutti i cittadini piemontesi. Una giornata importante, un segnale politico forte di contrasto alla criminalità organizzata, ha commentato il capogruppo della Lega Alberto Preioni. Per Domenico Ravetti, capogruppo del Partito Democratico, il Piemonte manda un segnale forte alle mafie. Ora deve seguire l'impegno nel rendere la Commissione più efficace possibile. Una vittoria di tutti i piemontesi e una battaglia di civiltà imprescindibile, ha commentato Paolo Ruzzola, capogruppo di Forza Italia. Per Francesca Frediani, capogruppo del Movimento 5 Stelle, il risultato raggiunto è il frutto di un lungo lavoro del Movimento che per primo ha proposto l'istituzione della Commissione Permanente. Soddisfatto anche Maurizio Marrone, capogruppo di Fratelli d'Italia, con la destra al governo della regione, la Commissione Antimafia diventa finalmente permanente. La mafia è un socio occulto che inquina la politica, ha dichiarato il capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi. Ecco perché auspicavamo da tempo l'istituzione di un organo di vigilanza regionale. Per Mario Giacone, capogruppo a Chiamparino per il Piemonte Monviso, la Commissione Permanente è uno strumento di lotta alla mafia e di educazione nei confronti dei giovani. Oggi affermiamo il principio che occuparsi di contrastare la mafia è un dovere della politica, ha concluso il capogruppo dei moderati Silvio Magliano. Tra le tante autorità presenti, il prefetto di Torino Claudio Palomba, il procuratore della Repubblica Patrizia Caputo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Torino, generale Guido Mario Geremia, il comandante provinciale dei Carabinieri di Torino, colonnello Francesco Rizzo, il primo dirigente di polizia del commissariato Torino-Centro, Gian Maria Sertorio, e il segretario della Commissione regionale dell'ABI, Aldo Lombardo.